Ecco a voi il backstage dell'Associazione del Carnevale New Age dalle parole di Alessandro Russo e della sua costumista Valentina Puglisi. Per noi il carnevale è una passione, nasce da una passione e diventa divertimento. La nostra associazione nasce nel 2010 ma prende parte della prima edizione nel 2013. Uno dei migliori aneddoti del nostro carnevale è stato il primo anno che a prima esperienza abbiamo raggiunto il primo posto. Abbiamo scelto questo tema perché volevamo rappresentare la musica e lo stiamo facendo in modi molto molto particolari per non ricopiare questo tema che è stato fatto negli anni passati. A voi accetta che c'è la competizione, se non ci sarebbe la competizione non ci sarebbe lo spirito di fare questo evento. Sarà tutta sorpresa, daremo noi il nostro meglio su strada come faranno gli altri gruppi. Per ammirare i nostri costumi. Ma intanto si deve sfruttare tanta fantasia. Fantasia che giustamente viene espressa in forme, in piume. E diciamo che il gruppo viene fuori mano a mano e che si sviluppa. Perché si inizia da una piccola bozza, diciamo un'impronta data dal titolo del tema. E poi da lì si sviluppa tutto l'insieme di 100 persone. Ma quest'anno ci siamo concentrati molto sulle strutture. E quindi abbiamo usato le basi in ferro. I tessuti non abbiamo puntato su tessuti preziosissimi, anzi tessuti base. La lavorazione di questi tessuti è stata più importante. Abbiamo arricchito questi vestiti dall'artigianalità del lavoro. Ma si sceglie perché diciamo che Mister Bianco dà la possibilità a noi costumisti di esprimerci. Ed è l'unico carnevale nella Sicilia orientale che permette di esprimere appunto la nostra creatività in quanto costumisti. E' unico carnevale in quanto costumisti. Grazie a tutti.